Ehi ciao a tutti ragazzi sono Leonass e quest'oggi siamo tornati su Dragon Ball Z Doc and Battle versione global perché ragazzi quest'oggi andremo a fare il terzo episodio del Doc and Battle randomizer infatti ragazzi mi raccomando subitissimo un bel like iscrivetevi al canale e mi raccomando condividete il video subitissimo perché se volete il quarto episodio sabato prossimo dobbiamo arrivare a 150 like quindi ragazzi mi raccomando su con i like subitissimo su con i like perché ragazzi 150 like per il prossimo episodio dai detto questo ovviamente andiamo a prendere il nostro team randomizzato dai allora cosa c'è la terrestre qui ok ragazzi andiamo subitissimo a cambiare il team io ovviamente chiuderò gli occhi e ho detto ovviamente cambiamo anche la disposizione prendiamolo a caso questa non sto guardando ho soltanto guardato la sezione conferma ok adesso ragazzi andiamo 3 2 1 via quante ne ho presi tre soli ho aperto un attimo gli occhi ragazzi per vedere se il team era completo ma perché ci sono tutti i elder kai qui i kan kai non ha senso vabbè ragazzi chiudo gli occhi eh questo credo di andare in versi basso adesso o verso l'alto in teoria verso l'alto in teoria dai guardiamo verso l'alto dai via ancora non abbiamo comprato il team ma dove sono tutti i personaggi a co a la sezione costa è vero come 99 ma cosa raga ma perché ho selezionato i costi raga allora sono verso il basso i personaggi andiamo verso il basso via budget oi oh madonna che team raga madonna che team ma ovviamente avete sentito il campanello mi chiamano ma cioè mi vabbè io non dico niente raga non dico niente non dico assolutamente niente non dico niente dai questo è il team ragazzi io vi giuro che non ho guardato assolutamente niente ogni tanto ovviamente devo controllare se il team è completo perché non posso stare a cliccare all'infinito per due anni se poi il team è già fatto quindi ragazzi purtroppo abbiamo selezionato i costi quindi con tutti i grandi cavi sono in punta e i personaggi veri proprio sono tutti in basso ragazzi questo è il team letteralmente scabroso come il team ma fa proprio schifo c'è omega sharon go thanks c'è già questa combinazione fa paura budget lr android lr e poi budget vabbè black fisico mamma mia ragazzi ovviamente ovviamente ragazzi sceglieremo random ma anche la sfida quindi gli giudiamo gli occhi andiamo un po' a casaccio per cambiare un po' le impostazioni e poi mettiamo un elemento eccolo qua merged zamazo merged zamazo va bene super raga 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 random anche il nostro friend adesso sto ovviamente scompinando un po' le cose e poi adesso clicco goku ok non è che avevo già cliccato un quarto da fa vero perchè ho chiusi la cosa ovviamente non vedo cosa sto facendo comunque ragazzi questo è il team che andremo a fare oggi che andremo ad utilizzare oggi davvero davvero bruttissimo ragazzi black fisico come leader omega sharon gothens budget lr android lr budget int base ovviamente il base budget e poi goku quarto livello come leader friend ragazzi un peggior team non poteva venire fuori il peggior team è venuto fuori ragazzi è ovvio no andiamo che domande cosa ci fa ancora qui raga andiamo su andiamo allora allora non so probabilmente c'è stato qualche piccolo lag scusatemi per questo scusatemi per questo ma andiamo ragazzi andiamo subitissimo ovviamente abbiamo 180.000 a capire ragazzi ma dove vogliamo andare c'è un team del genere ma poi con quale leader quello è il bello cioè potrebbe averci una minima logica ce la poteva avere se avevamo qualche leader migliore qualche cooler fisico come leader mio magari nel friend o qualcun altro ma così ragazzi che cazzo di senso ha questo titolo zero di senso c'è nessuno link adesso vedremo i bei link che abbiamo adesso li vedremo bellissimi i giorni di partenza mi gustano c'è bellissimo spettacolare io dico che non superiamo nemmeno questa tornazione questa fase scusate dico che non la superiamo tra l'altro il budget il goku e la full ability si è magari eh e il goku al livello ovviamente ability free eh giustamente però se a 10 attenzione se a 10 quindi questo potrebbe darci un vantaggio in più ragazzi siamo veramente nella merda scusate in termine ma è così comunque ragazzi se questa serie vi sta piacendo le peggio sclerate le pre le peggio sfide ragazzi mi raccomando un bel like perché cosa 93.000 abbiamo già perso non è possibile ragazzi vediamo qui eh non c'è cristi dicio ma 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 stiamo scherzando abbiamo già perso tutta la vita ragazzi abbiamo già perso tutta la vita senzu ragazzi io non ci sto credendo comunque vi dicevo per il quarto episodio di questa serie mi raccomando subitissimo subitissimo un bel like perché vi lo ripeto per il prossimo episodio dovremo raggiungere 150 like per fortuna Veget fa la 18 ki con Goku World come leader si prende un boost decente perlomeno quello quindi per fortuna abbiamo lui per fortuna però se ci fa la special su Veget base ragazzi int ci sciotta ci sciotta al 100% quindi Veget se tutti noi non lo sciotterà mai non lo sciotterà mai ma proprio mai mai quindi dobbiamo metterci l'anima in pace cosa un milione e quattro abbiamo sciottato effettivamente Mergen Zamasu tech 5 no 4 barre di vita ragazzi la sfida continua allora loro è accanto scusate per la prossima siamo sempre lì c'è ragazzi il link a meglio a me a share una parte è vero perché una parte no non è della categoria ma quelle ragazze sono cittadini peggio cose peggio glitch comunque lui qua diciamo di sì ci potrebbe stare prenderà così tanti danni che non forse non ci saranno domani così potremmo dire ma forse era meglio non di niente perfetto almeno World Rivello fa la special ragazzi speriamo che Goffinx non muoia o perlomeno che è perfetto no ragazzi ovviamente c'è quello in fondo che potrebbe canturare un'eventuale special e ovviamente mi prende quello che prende più danni di tutti è giusta la cosa ragazzi è giustissima è giustissima ma perché sono così sfigato all'anima comunque ragazzi mi raccomando qua sotto vedete le schede ritrovate il primo e il secondo episodio di questa serie quindi magari se lo siete persi recuperateli subitissimo e ovviamente ragazzi qua sotto in descrizione trovate anche ovviamente ovviamente tutti i vari link del caso gruppi telegram gruppi discord ovviamente pagina facebook pagina instagram e tutte le altre cose mi raccomando ragazzi seguitemi su instagram perché sarò ovviamente lì a dirvi tutte le varie news che succederanno in vacanza magari scolate in singola in ticket scolate in singola in qualche batch quindi ragazzi lì è il metodo più rapido per saperlo in diretta altro items da utilizzare se c'è ragazzi se vinciamo con questo team se vinciamo con questo team giuro che vendo un ssr giuro che vendo un ssr ne vendo uno vendo un ssr ragazzi casuale anche quello è casuale anche quello è casuale però lo vendiamo lo vendiamo e ve lo giuro lo vendiamo lo vendiamo dai non continuiamo a scolidare nei peggio modi ma andiamo invece tele rs tutti noi tanka perfetto disintegralo subito proprio disintegralo con 3d con 3i con 3s disintegralo perfetto ragazzi ultima fase di questo evento mergete zamasu con 5 barre di vita tech il devasto più totale cioè gli android non fanno niente come se non ci avessi nessuno un cyberman farebbe più danni relativamente un cyberman farebbe più danni ed è così cioè ragazzi nessuno linka nessuno linka è ridicola la cosa sono in crisi va bene così va bene così prendiamo così tanti danni forse che non ci non ci ricavamo le gambe ragazzi non possiamo vincere arriviamo sempre nelle ultime turnazioni nelle ultime fasi sempre nell'ultima fase ma alla fine perdiamo sempre già ragazzi diciamolo gofengs ancora non ha fatto una special omega uguale gli android non la vedono nemmeno se gli diamo la mazzetta goku va a livello uguale l'unica special che era fatta per adesso è budgeterliare che ha sceltato 2 fasi su 3 va bene adesso faranno la special attenzione raga attenzione mettiamolo nel mezzo va bene facciamogli fare questa dobbiamo utilizzare un altro items io direi vivamente di utilizzare un altro senzu un altro senzu dobbiamo provare a scioltarlo ragazzi dobbiamo provarci assolutissimamente a proprio instant non facciamogli fare la special e la 18 ki ma facciamogli fare quella che si boosta perlomeno magari nella prossima turnazione se ci arriviamo potrà fargli molti più danni goku fort livello free hand fa special quindi spremendo un crit dovremmo tankare dovremmo tankare quindi spero ovviamente che sia così dai oh aia non l'abbiamo tankato assolutamente aiaiai goku fort livello ci sta che prenda così tanti danni ragazzi che moriamo 600.000 hand additional goku fort livello se ci fa la special e l'avversario e se la subiamo con lui rischiamo di perdere 17.000 dai counter la counter la counter la si 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 sono così fioco che sto facendo certe cose allora così gotheng se siamo tutti noi vabbè ragazzi lo utilizzo lo utilizzo dobbiamo vincere dobbiamo vincere in tutti i modi vabbè ma anche black physical me ne ha fatto punte special quindi ma si dai è sempre gotheng è sempre gotheng quindi dovrebbe fare più danni degli altri dai due special su tre due special su tre gotheng se tutti noi si critti si critti e vinciamo ragazzi il devasto se vinciamo vengono le SSR dai abbiamo vinto non ci sto credendo ragazzi abbiamo vinto con questo team ma cosa ragazzi ma che team è nessuno linkava nessuno faceva la special budget bln ci ha salvato 10 volte su 10 ragazzi effettivamente il terzo episodio l'abbiamo vinto subito 150 like ragazzi condividetelo con tutti i vostri amici in tutti i vostri gruppi subitissimo 150 like per il prossimo episodio sabato prossimo subitissimo ragazzi dai ragazzi come ovviamente raga piccolo problema tecnico purtroppo mi si è bloccato la registrazione per pochi secondi infatti sono riuscito a farla ripartire il più effetto possibile siamo rimasti al infatti sta ancora laggando non so se a voi ve lo farà vedere questo però sta ancora effettivamente laggando vendiamo i personaggi il prima possibile in modo tale che non si blocchi più niente devo controllare poi effettivamente il problema per quale motivo si blocca poi magari da giù il computer e tutto ragazzi vediamo il personaggio come abbiamo detto dobbiamo vendere un personaggio un ssr quindi dobbiamo assolutamente togliere da qui tutti gli ur tutti gli ur tutti gli lr perché non sono della scommessa togliamo anche questi in modo tale da bersagliare solo gli ssr e ragazzi è il momento io chiudo gli occhi faccio un po' di scalo in su e in giù e ragazzi dovremmo esserci io vendo questo chi è? ok dovrebbe averne tante dire la verità quante ne abbiamo? si va bene abbiamo cinque assolutamente lo vendiamo lo vendiamo però non ho detto dove lo vendiamo e a questo punto lo vendiamo al baba se la connessione ce lo permette non è che chiedere tanto ovviamente c'è niente di medaglie interessanti no va bene allora vendiamo il nostro carissimo ssr oddio non siamo scesi di nero più di tanto e ragazzi come ho detto ecco qua abbiamo venduto un Majin Vegeta ragazzi per questo episodio rimettiamo tutto come era prima perché io ho i miei i miei fisime che voglio tutto perfettamente così ragazzi per questo episodio è tutto io spero se stai bloccando tutto no ti frego no non bloccarti più ragazzi mi raccomando per il prossimo episodio per il quarto episodio della Dock and Battle Randomizer dobbiamo raggiungere i 150 like se settimana prossima ma sabato prossimo prossimo episodio quindi mi raccomando se questo video vi è piaciuto iscrivetevi subitissimo al canale mettete un bel like condividete il video commentate subitissimo qua sotto ovviamente nella sezione commenti e ragazzi vi ringrazio a voi tantissimo non ci sto credendo che abbiamo effettivamente superato l'evento di Merge Zamasu ma tutto ci sta io ragazzi vi ringrazio ancora e ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.